L'approssimarsi di un nucleo di aria fredda dalla Francia verso il Golfo del Leone favorirà la formazione di un minimo depressionario centrato sul mar di Sardegna, con conseguente richiamo di correnti umide meridionali verso il Tirreno e il Mar Ligure. Il fronte freddo associato a tale depressione insisterà sull'Italia fino a martedì. In Toscana, domenica 15 marzo, molto nuvoloso, con piogge in estensione dal litorale, più frequenti e insistenti nel pomeriggio sera, in particolare sulla costa e sulle zone meridionali, dove potranno assumere occasionalmente carattere temporalesco. Quota neve in Appennino intorno ai 1100-1300 metri, venti deboli o moderati orientali nell'interno, fino a forti o molto forti di scirocco lungo la costa e l'arcipelago. Mari molto mossi o agitati a largo, sull'arcipelago e sulle coste esposte al flusso di scirocco, mossi altrove. Temperature minime in aumento, massime in caro. Sul territorio provinciale, dal nuvoloso a molto nuvoloso, coperto con piogge anche di forte intensità dal pomeriggio sera. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 8, massima 13 gradi. In Versilia e sul litorale, minima 10, massima 14 gradi. In Garfagnana e zone montane, minima 5, massima 11 gradi. Lunedì, situazione stazionaria con piogge diffuse.